L'Europa ci condanna entro il 28 di maggio se non rientriamo nelle legalità. Il Presidente Napolitano ha un urlo nel suo messaggio, è fatto, obbligo. Il 29 parleremo di questo, noi interverremo per parlare del messaggio del Presidente della Repubblica e per sostenere l'amnistia, l'amnistia per la Repubblica e l'indulto.